pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa seconda domenica dopo natale continuiamo a riflettere sull'incarnazione del figlio di dio abbiamo il prologo del vangelo secondo giovanni un testo meraviglioso profondissimo l'incipit solenne a tutto il vangelo che noi ovviamente non vogliamo approfondire per ovvi motivi di tempo ma cogliere quattro spunti in semplicità perché ogni giorno sia natale primo punto si riparte sempre da gesù ecco il prologo ci dice che in principio era il verbo il verbo era presso dio il verbo era dio tutto è stato fatto per mezzo di lui e ad un certo punto il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi si riparte dallo stupore dell'accogliere e del voler seguire ogni giorno il signore gesù in lui il verbo eterno di dio la sua parola si fa uomo ci viene a rivelare chi sia dio quanto ci ami viene ad insegnarci ad amare a renderci capaci di amare e dunque si riparte dalla gioia del lasciarci amare da lui del voler che la nostra vita sia guidata da lui del volere essere uno con lui nel mondo a volte si fa gara per andare ad abitare vicino a personaggi famosi dio si è fatto nostro coinquilino nostro vicino nostro fratello ancora oggi si rende presente in mezzo a noi nascosto soprattutto nel sacramento dell'eucaristia dove c'è la sua presenza reale continua a parlare al nostro cuore attraverso la sua parola la sua grazia che fluisce specialmente attraverso i sacramenti della chiesa ogni giorno il signore bussa al nostro cuore per nascere rinascere e crescere in ciascuno di noi secondo punto affinché ogni giorno sia natale è importante coltivare la vita interiore giovanni ci dice che in principio era il verbo e il verbo era presso dio potremmo anche tradurlo che era rivolto verso dio usiamo altre due parole a noi più familiari il figlio era rivolto verso il padre cioè cioè giovanni ci fa capire che da sempre in dio c'è uno scambio un essere rivolto l'uno verso l'altro potremmo dire il vivere l'uno per l'altro e quest'amore che circola è lo spirito santo tutta la creazione non è altro che il traboccare di quest'amore che è profondamente vissuto dalle persone della trinità dunque affinché la nostra vita sia fruttuosa è importante coltivare la vita interiore questo vivere anche noi rivolti verso dio e questo cosa significa questo vuol dire in una parola cercare l'unione con dio nell'arco di tutta la nostra giornata fare le cose per amore suo cercare in ogni cosa di essergli graditi questo parte da che cosa parte dall'importanza dello stare con lui del disporcere ascoltare lui dunque dunque la cura dei propri tempi di preghiera del meditare quotidianamente la parola di dio nel partecipare assiduamente ai sacramenti quindi potremmo dire curare la vita interiore intesa come dimensione contemplativa lasciando che l'anima respiri dio ritagliandoci dei momenti speciali per stare con lui e poi e poi continuando a vivere questa unione con lui nel mettere il cuore in ciò che lui ci chiede nel cercare di essergli graditi in tutto questa in fondo è la vita spirituale del cristiano è qualcosa di profondo di meraviglioso e di serio terzo punto affinché ogni giorno sia natale non dobbiamo aver paura di lasciarci illuminare dalla sua luce giovanni proseguendo ci dice che in lui nel verbo era la vita e la vita era la luce degli uomini la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta il termine catela ben verbo catalambano può significare sia non l'hanno accolta sia appunto non l'hanno vinta sopraffatta giovanni dunque ci parla di una sorta di lotta tra la luce e le tenebre la luce splende le tenebre vorrebbero rifiutarla ma non possono vincerla esistenzialmente cosa ci può dire ci può dire tanto perché in gesù nella rivelazione della sua parola che verità della sua vita che amore pieno limpido lineare vengono rischiarate le tenebre presenti nella storia in fondo nel cuore di ciascuno di noi innanzitutto miei cari è alla sua luce che possiamo capire vedere quali sono le nostre tenebre io finché canto da solo nella stanza posso essere convinto di essere pavarotti ma sarà solo quando mi metto accanto a qualcuno che canta bene sul serio e mi ascolta potrò capire a che punto sono ecco noi abbiamo bisogno di mettere la nostra vita davanti alla bellezza non per sentirci male e non so frustarci pensando mamma mia quanto faccio schifo ma finché le mie tenebre possano essere illuminate la mia vita possa diventare più bella io posso pensare ad esempio che un mio modo di fare sia amore ma è solo davanti all'amore vero che potrò capire ma questo è amore o è altro o è amore disordinato e egoismo questo modo di fare di pensare di agire che mi è stato trasmesso magari anche in buona fede in famiglia o dall'ambiente in cui sono cresciuto ma è vero e secondo la verità è bellezza e bontà autentica e a questo punto ci possiamo chiedere ma quali sono queste nostre tenebre come disse un bravo biblista mannucci queste tenebre assumono la valenza di simbolo della ribellione dell'ostilità colpevole di ciascuno di noi cosa che ognuno conosce bene tutti conosciamo una forma di ribellione di ostilità sentita di fronte a quella verità che abbiamo sentito ma che ci ha infastiditi e non abbiamo accolto di quelle cose vere e belle sante che conosciamo ma non vogliamo vivere o accolte ma al tempo stesso combattute i nostri egoismi l'attaccamento a noi stessi la prigioniera da determinate cose a cui non vogliamo rinunciare il problema serio non è tanto questo quanto piuttosto non volersi mettere alla luce il non voler venire alla luce negandola facendo finta di niente giustificandosi arrampicandosi sugli specchi è paradossale ma alcune persone preferiscono vivere prigioniere nelle tenebre è attribuito a platone un famoso detto che recita così possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio la vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della luce perché abbiamo paura della luce a volte perché non ci fa comodo cambiare altre volte perché abbiamo paura di sentirci falliti non buoni altre volte abbiamo paura di aprire il cuore a chi nel nome del signore ci può aiutare per paura del giudizio ma questa parola ci annuncia la bellezza ci dice guarda che quella è luce e la luce viene per illuminare riscaldare potremmo anche dire viene per dare senso per rischiarare quelle tenebre profonde che ci impediscono di vedere di amare che bella parola le tenebre non sono più forti della luce a noi non aver paura di venire alla luce ultimo punto affinché ogni giorno sia natale riscopriamo la bellezza del vivere da figli di dio giovanni sempre nel prologo ci dice venne fra i suoi ma i suoi non lo hanno accolto ma quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di dio qualcosa di meraviglioso poter essere vivere da figli di dio uno si potrebbe chiedere ma tutte le persone sono figlie di dio sì certo per creazione lo siamo tutti è chiaro dio in questo senso è padre di tutti ma accogliendo gesù accogliamo in noi la vita stessa di dio lo spirito di dio diventiamo figli per adozione tanti padri della chiesa dicevano infatti che dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi dio e dunque e dunque la meraviglia poter amare da dio ma nel vero e più profondo senso della parola cioè poter diventare uomini e donne nella misura più alta guardate i santi i santi sono stati uomini e donne nella misura più alta più bella siamo dunque chiamati ad agire da figli e cosa vuol dire agire da figlio vuol dire agire come qualcuno che in tutto cerca di essere trasparenza del padre pensare sentire agire unito a gesù chiedendosi in semplicità ma il signore al mio posto cosa farebbe in questa situazione il verbo si fece carne e vuole continuare a farsi carne in noi affinché attraverso le nostre parole le nostre opere sia lui a continuare ad agire nel mondo attraverso l'unicità meravigliosa che è ciascuno di noi in conclusione affinché possa essere ogni giorno natale cioè affinché ogni giorno il verbo continui a farsi carne in noi ripartiamo da uno sempre da gesù dal desiderio di lui dalla gioia dell'averlo incontrato e dalla volontà di volerlo seguire due dal coltivare la relazione profonda con lui cercando l'unione con lui in tutto incontrandolo insieme alla comunità vivo risorto tre non aver paura di lasciarci illuminare dalla verità dalla sua parola non temere di riconoscere le proprie fragilità di confessare i propri peccati lui è venuto a salvarci e a perdonarci 4 ogni giorno voler vivere da figli di dio lasciandoci guidare dal vangelo e dallo spirito santo per amare come lui ci ama che il buon dio vi benedica tutti pace e bene